Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, insomma terriotori siamo in questo nuovo episodio di Dark Souls 3 Ragazzi abbiamo deciso di fare una serie tutta nostra per sempre, io e Strongest Eye ragazzi Vogliamo farla con gli stregoni, i catalizzatori partendo, vai Strongest Eye saluta il pubblico Il saluto di Strong, va bene Va bene, allora ora andiamo a fare i culi, io sono una persona che va di anima potente, dalla nesce un altro, lo so benissimo Guarda come vado di potente, lo uccido con un solo colpo, bene Guarda come lo uccido, vedi come non faccio un cazzo Vai oppure io voglio anime gratis? Sì, vuoi in tiri Aspetta che mi devo prendere il cinereo Sì, non sono finiti proprio Si saliva per di qua Lo giuro che non lo sapevo C'è un falò qua Sì, sì No, lo vedo Davvero? Si vede No, no Ma ora non puoi rientrare, scusami Sì, sì, sì No, ti piace il signo, è il giorno Bene, ma è rimasto nella merda Mori Mori Bravissimo Porca puttana Va bene, non ti preoccupare che tra poco la natura va a fare il suo corso Ecco qui, sono morto, non ti preoccupare Dove sei? Sempre vicino alla sedia? Ah, sì, ma ora tu mi bravi Bene, ora piazzo io il mio segno di evocazione a terra Quindi sarò io il tuo fantasma Quindi poi dopo devi venire da me Ok, l'ho piazzato Aspetta Lo rimuovo, lo piazzo vicino alla sedia Perché è figa la sedia Cosa? Ti evocato Chi ho? Io ti evocato Ti evocato, vabbè Sì, evocato Bene, esci ora Ti evocano subito, ecco, vedi Oh, vieni nel mondo di questo, zio Andiamo tutti nel mondo suo Vai, scherzo, dai Cristallo deve dare la separazione Scusami, ma ormai devo tornare a fare in culo L'ho trollato, l'ho trollato Mi vado a scegliere dei posti proprio unici Eh sì, dobbiamo Il portatore della braccia Oh, bene Oh, strong, hai portato la braccia Dov'è la carne, dov'è la carne? Dai, vai Un po' di carne Oh Ma io è un consiglio Quello che lo vedi Questo? Bam L'aiuto da dietro Mamma mia, io sono il re di Dark Souls Vai, tu vai avanti, vai di corpo a corpo Ma non c'è te la tabis Che cazzo Sei risvegliato, eh Bene, credo che ora Sono nella merda Aspetta, no, non sono nella merda Ta-ta L'art Ah, però mi vura a me Si, per ora Eh, per questo Ora siamo nella merda E come faccio che ho finito Destus Va bene, dai Tu fai una cosa Tu vai avanti E io sto dietro Vai Ah, ma io ho finito pure la magia Bene, siamo costretti Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai No, non si è Aspetta, aspetta Sto entrando, sto entrando Anche meglio così Perché mi piace È tutto Ci vediamo in un prossimo episodio Un abbraccio Ciao ragazzi Un saluto da Matteo Sto non che stai Non saluto Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti